Previsioni del tempo per sabato 10 luglio su Puglia, Basilicata e Molise. Situazione generale. Il tempo si manterrà stabile e largamente soleggiato, grazie alla presenza dell'anticiclone afro-mediterraneo, in ulteriore rinforzo sulle nostre regioni. Temperature stabili o in ulteriore lieve aumento con caldo in accentuazione nel corso della giornata. Venti deboli a tratti moderati settentrionali, mari poco mossi o mossi a largo. Vediamo ora le previsioni sulla Puglia. La presenza dell'anticiclone garantirà ancora una giornata prettamente estiva, con clima caldo ma non affuoso. Avremo pertanto cieli che si mostreranno sereni o poco nuvolosi su gran parte del territorio. Temperature in lieve aumento con valori nella media. Venti deboli a tratti moderati settentrionali, mari poco mossi o mossi a largo. Grazie a tutti.